sei la voglia di volare l'emozione dentro il cuore graffi fino a farmi male ma sai farti perdonare sei la pioggia e il temporale il vento caldo del mio mare notti intere al pianoforte sei la vita che riprende sei oh sei sei musica musica buonasera 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 a tutti benvenuti puntata numero 375 del festival italia musica l'ultima puntata di questa lunghissima e fortunata edizione del festival quindi grazie a tutti che forza la musica ma grazie al pubblico da casa che ci ha sempre sostenuto con grande entusiasmo grande affetto grazie al pubblico e studio questa sera in particolar modo meraviglioso grazie abbiamo iniziato quindi lo vorrei ringraziare con peppino vinella la nostra favola questa favola musicale che dura da ben 11 anni grazie soprattutto a voi al vostro entusiasmo grazie peppino vinella allora iniziamo direttamente con le finaliste quindi sarà proprio una gara tutta il femminile le finaliste del festival italia musica quindi una contro l'altra anche se dobbiamo dire vince sempre la musica vince l'affetto vince l'amore e i sentimenti quindi grazie ad alessi ad arianna grazie a tutti